Questo inizio di giugno sblocca un passaggio fondamentale in quello che è l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro nel sito di Muraglia, è arrivata infatti l'assegnazione della progettazione dei lavori. Sì, un momento storico per la città di Pesaro che attendeva dal 1968. Si avvia la progettazione e quindi successivamente i lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro perché i diritti alla salute dei cittadini pesaresi non possono essere compressi come sono stati compressi in questi 50 anni senza una struttura adeguata ai bisogni di Pesaro e della provincia di Pesaro e Urbino. Proprio in questi minuti sono stati assegnati i lavori per la progettazione alla SD Partners di Milano che si avvale anche dello studio di progettazione Paci Beta, quindi è forte anche il contributo pesarese e marchigiano con uno studio di architettura anche di Ancona che si occuperà del nuovo edificio che ospiterà i bisogni di salute di questa città, la seconda città della nostra regione. Perché questo è così importante? Perché dovremo stare attenti a questo contenitore che si inserisce in un quartiere, quello di Muraia, che vede nella sua bellezza anche la sua fragilità con il monte alle sue spalle. Quindi faremo attenzione ai cittadini, faremo attenzione alle esigenze ambientali, faremo attenzione alle esigenze di salute dei cittadini pesaresi. Perché è questo? Perché Pesaro è una città importante a cui con la giunta a Quaroli abbiamo dato una risposta concreta. Il più grande investimento nella storia della regione Marche che si ricordi. Oltre 200 milioni di euro di investimenti e a cui diamo risposta anche a coloro che hanno fatto il festival delle parole qui a Pesaro, a cui vorremmo dedicare scherzosamente un reparto dell'Ast, quello dei neuroscettici. Con la giunta a Quaroli si fanno fatti concreti nel segno dei diritti, i diritti alla salute dei cittadini di Pesaro e di tutta la nostra regione.